Lei è un uomo piccolo! È una vergogna! Io sono venuto da là per dargli un lavoro a mio figlio, per dargli un futuro. Ma io non conto più niente. Non conto più niente. Chi ce lo fa fare? C'è troppo marcio in giro. È questo che pensi, vero? Qualcuno deve fare un piccolo rapimento iniziale per i popolari. Abbiamo cellule dormiente di papà emigrati che si occuperanno di rapire tra l'Italia. Anche noi dobbiamo riportare in Italia il nostro patrimonio. Altrimenti la generazione di suo figlio sarà l'ultima a sopravvivere in Italia. Diete Merkel! Merkel! Ma sono proprio secchioni, secchioni. Basta che non li fai parlare. Ti tieni imbavagliati per tutto il viaggio. Vuoi condividere tutti i momenti più belli con tuo figlio? E il momento più bello per lui è quando gli dai in mano la sua vita. Gli togli l'ancora. Gli togli il nostro mentale. Gli togli l'ancora. Voi siete quelli che riportate in Italia, laureati che sono andati all'elio, scappati, poi se voi li capite, vi riportate in Italia, il timbro lo tenete, il timbro con l'intestazione, non lo tenete, tanto c'è sempre un fesso che corregge.